Hanno ucciso mia madre il 23 giugno di quell'anno e mia madre non era parte di questa guerra. Così ho deciso... Scappano dalla guerra, dalla fame, dai soprusi. Cercano una prospettiva di vita, un futuro. Arriva dal Valdarno Aretino, una storia di riscatto e accoglienza. Siamo a Terronova Bracciolini, nella cintura verde attorno a Poderirota, l'accordo tra Xai e l'azienda agricola Riofi ha consentito ai migranti, ospitati dalla cooperativa Beta 2, di poter lavorare. Un'assunzione a tutti gli effetti, come si fa in agricoltura, con un contratto di avventizi. Loro ad oggi hanno un contratto che scade alla fine dell'anno ma che verrà rinnovato. Lo fanno in questi 20 ettari di terreno coltivati a noccioleti. I frutti saranno destinati ad un colosso della cioccolata spalmabile. Imparano un mestiere, tra l'altro coadiuvati dai nostri dipendenti, che hanno una professionalità ormai elevata e quindi sono capaci di insegnare e affiancare nel lavoro questi addetti. In tutto 40 i migranti accolti dalla cooperativa 19 sono negli alloggi dell'agricola Riofi. In quattro hanno già iniziato a lavorare. Loro vogliono lavorare. Cosa le chiedono? Lavoro, le chiedono lavoro, lavoro, lavoro. Cosa rappresenta per loro poter lavorare, potersi impegnare e non stare invece magari tutto il giorno, insomma con le mani in mano? Loro rappresenta una prospettiva per il loro futuro. Oltre al lavoro imparano la lingua, si integrano e sognano una vita migliore. Loro sono qui per realizzare dei sogni che nel loro paese non potevano essere realizzati.